È stato rimesso in libertà ma sottoposto all'obbligo di firma l'uomo di Campotosto che al casello autostradale L'Aquila Ovest dell'A24 ha cercato di distruggere con una motosega che aveva in macchina la macchinetta per il pagamento del pedaggio dopo che il bancomat era rimasto dentro senza riuscire. L'uomo è accusato di minacce e danneggiamenti, gli sono stati confiscati l'automobile, la motosega ovviamente e anche la patente che gli è stata ritirata per un anno. Al giudice ai poliziotti, l'uomo originario di Campotosto appunto, ha spiegato di aver perso la testa per via del bancomat che era rimasto incastrato, ha cercato di recuperarlo, si è giustificato usando la motosega, andata fuori uso visto che l'apparecchio è in ferro. Il 55enne però era in evidente stato di ebrezza e ha dato in escandescenza al casello tentando pure di colpire l'addetto che era nel gabbiotto e danneggiare il cancello della vicina sede della polizia. Una notizia che in città ha destato molto scalpore per le modalità e l'originalità tant'è che molti hanno pure ironizzato sulla vicenda con vignette sarcastiche che hanno imperversato sul web.